Saremo nudi, mi sdraierò su di voi e poi entrerete dentro di me. Siete pazza? Che avete da guardare si può sapere? Gabriele! Avete conosciuto mia figlia maggiore? Sì, è molto bella. È malata? Non è pazza? Ha solo bisogno di un uomo. Volete sposarvi con me? Siete matto? Non vi amerò mai. Signora Ravascal Gabriele, rimarrete per sei settimane. Quello di cui soffrite viene anche chiamato mal di pietre. Buongiorno. Anch'io faccio la cura. Non scendo mai di sotto. Ci sono soltanto malate. È il libro che state leggendo? Sì. Amore mio, il tuo corpo mi ha invaso. Non faccio che aspettare. Non hai ancora risposto alle mie lettere. Cosa ti ho fatto? Voglio parlare con te. Perché non mi hai mai detto niente? Di che parli! Aspettate. Che cosa posso fare? Che cosa posso fare? Grazie a tutti.